bello a tutti ragazzi sono il nostro caro amico Guggero Matte siamo qui sul primo vlog del canale in questo vlog faremo uno scherzo a mio fratello questo video l'ho preso in filazione dallo scherzo a minun di Zibis lo inchiuderò in un bagno lì adesso iniziamo Manu portati la maschera che recchiamo ok vai in bagno vai in bagno ho detto vai in bagno guarda che carico questo è ok bravissimo e non provare a scappare questo pezzo non è carico eh eh bravo eh aspetta fanno male le varie a prenderlo sto rovo il gioco è scarico oh cavolo meglio no 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 ragazzi ragazzi il video di oggi finisce qui spero che vi sia piaciuto ci vediamo in un prossimo video ciao 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 Grazie.